Buon pomeriggio, signor Agam. Forza, andiamo a casa. Scusate, è un clandestino. No, sono un cittadino malese io. No, è un clandestino. Guardi. Su, non faccia storie. Guardi, guardi. Che succede? Ehi, agente. Sì? Quella donna mi ha appena aggredito. Eh? Ha commesso un abuso sul suolo straniero. Non avete nemmeno avvisato la polizia malese sul ruolo di Agam. Non sapevano quale fosse il collegamento di Agam con l'attacco al furgone. E ora mi dica, che facciamo? È tardi. Signore, lo sta facendo apposta? Perché se è così, sappia che la accuserò di aver giocato sporco. No? Oh, è vero. Avevo dimenticato che lei fosse un completo incompetente. Manderò immediatamente una lettera a Giacarta e chiederò un nuovo ispettore. Quindi lei può anche fare bagagli e tornare dal paparino. È vero. È vero. È vero. Grazie a tutti.